Quali sono, come dire, gli asset, i pillars, mi verrebbe da dire, in questo senso? Le aziende sono una comunità, gestita, orientata, coltivata, perché ha un valore. La sostenibilità è solo uno degli elementi, perché c'è naturalmente tutta la parte legata alla dignità del lavoro. Io credo che il grande cambiamento sia quello di dover accettare che ci sono delle priorità valoriali, che vengono prima del profitto, ma che possono assolutamente conciliarsi, perché ormai si è capito che se davvero imbocchi una strada di sostenibilità a 360 gradi, è che lì c'è il vero business anche dal punto di vista del marketing, solo che questo aspetto valoriale precede l'operatività, in qualche modo. Grazie 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 Grazie